Don Giuseppe, ecco un commento così a caldo al termine di questa bella serata. Un momento particolare, le porte del Palazzo Vescovile del Museo di Gesano aperte, il Cardinale ha incontrato la città, gli ordini di architetti in maniera particolare, che hanno potuto visitare le bellezze del Museo, del Palazzo Vescovile, sentire anche la tradizione culturale della novena, che fa parte anche di quella che è la tradizione da non perdere, la sacristia monumentale, la possibilità anche di sera, fino a tardesera, di poter godere del centro storico che rimane aperto. La serata sta per concludersi, è stato un incontro fraterno, tra amici, l'invito è sempre aperto, quanti oggi non hanno potuto partecipare a venirci a trovare al Museo di Gesano, saremo aperti anche durante questa festività, tutti i giorni, dalle 10 alle 13, è un invito che vi facciamo a venire a conoscere i nostri tesori e la nostra città.